Oggi ci incontriamo con alcune aziende e con i miei colleghi per raccontare un po' lo scambio che stiamo avendo tra il mondo della ricerca, in particolare della ricerca sulle materie plastiche, che è quello che ci appartiene e ci caratterizza, e il mondo industriale. Come ricercatori nel campo dei polimeri noi da questo punto di vista siamo fortunati perché le materie plastiche sono ovunque nel mondo e ci sono milioni di applicazioni su cui la ricerca è ancora attiva, soprattutto la ricerca applicata. Quindi capita spesso di uscire dai laboratori e di sviluppare dei progetti in collaborazione con aziende. Nello specifico il tema della giornata di oggi è la sostenibilità, che è chiaramente uno dei motori che stanno spingendo i maggiori cambiamenti nel nostro settore. A tale riguardo noi ci occupiamo di sostenibilità a tutto tondo, sia dal punto di vista del riciclo, e quindi della sostituzione di materie prime vergini con materie prime provenienti da materiali di scarto. Questi possono essere polimeri a fine vita, ma anche materiali di scarto, per esempio, vegetali, a cui si dà poi una nuova forma, un nuovo utilizzo all'interno di compositi a matrice polimerica. Oltre a questo ci occupiamo anche di migliorare le proprietà di materiali polimerici con le nanotecnologie. Quindi alcuni miei colleghi presenteranno, per esempio, dei sistemi ad alta barriera per imballaggio, in cui il polimero viene accoppiato con un materiale inorganico, mantenendo però sempre un'attenzione alla riciclabilità e alla possibilità di riutilizzo del materiale.